Ragazzi bentornati sul mio canale, in questo video voglio mostrarvi un prodotto che ho acquistato su sito Joom che mi è appena arrivato è un kit di ricambio zip da 6 pezzi allora andiamoli a vedere da vicino alcuni sono di formato un po' più grande, altri più piccoli questi qua sono utili sia per i giubbini, cappotti, jeans, borse allora andiamo a vedere subito come va inserito all'interno la cerniera allora basta aprire così con un semplice clic e si apre e facilmente potete inserire all'interno la vostra cerniera molto utile, poi questo qua non è di plastica ma è di metallo quindi è più resistente questi qua li ho pagati 2 euro, ne vale la pena sinceramente per non buttare niente perché a volte c'è gente che per una semplice cerniera, per semplici problemi buttano un capo magari anche costoso e oggi come oggi non ne vale proprio la pena sinceramente meglio farsi tutto in casa per non buttare niente questi sono veramente splendidi credo che ne acquisterò altri sinceramente perché spesso capita che le cerniere si guastano, hanno un problema ed è meglio correre subito ai ripari io comunque sotto al video vi lascio sempre il link in modo tale che lo potete acquistare anche voi spero che il video vi sia stato utile condividete, iscrivetevi al canale e come sempre noi ci rivediamo al prossimo video grazie a tutti